Ben trovati, tutto si può dire del Premier Renzi, meno che non sia intelligente. Forse da un po' di mesi pecca di presunzione, ma la sortita che ha fatto nelle ultime ore e che sta indignando il popolo del Partito Democratico credo che abbia o potrà avere una risposta da qui a un po' di mesi ed anche in vista delle prossime elezioni politiche. Voi direte sempre la solita valutazione o riflessione legata alla fanta politica, ma tante volte abbiamo azzeccato, direbbe qualcuno che oggi deve restituire un po' di milioni di euro allo Stato, ossia Di Pietro, per essersene appropriato dopo aver fatto mani pulite. Perché la storia poi è fatta di corsi e ricorsi, ma ritorniamo a Renzi, alla fanta politica, alla riflessione, al fatto che si possa azzeccare la motivazione da qui a pochi mesi quindi più comprensibile rispetto a quanto ha detto si vince il referendum con i voti della destra. E giustamente i militanti del suo partito che si sentono di sinistra dice, ma come? Abbiamo bisogno dei voti della destra per vincere rispetto a una riforma costituzionale che tu ci disegni come meravigliosamente riformista e moderna? E hanno ragione anche loro. Ma Renzi, che dicevamo all'inizio, stupido non è, dopo aver fatto l'apertura ai voti della destra, pensate un poco, si va a ricordare del sindaco della piccola città italiana, anche se ormai nota in tutto il mondo per il suo barocco, del sindaco Paolo Perrone e dice, è un sindaco che governa bene quella città. Cosa c'è sotto questa ipotesi? Qualcuno già della politica e del famoso tavolo del centro-sinistra ironizza, ma la verità è che Renzi butta le basi a per accattivarsi le simpatie di coloro che sono a destra e che potrebbero pensare a un sì e quindi liberarli e indurli a votare. B, indurre a votare per il sì più liberamente qualche simpatizzante di questo o di quell'altro sindaco che però non è di centro-sinistra. C, il progetto. Dopo il referendum cosa succederà se dovesse vincere il no? Che nel partito me lo fanno rosso-rosso e allora io ho pronta un'altra struttura che da un po' di mesi si vocifera chiamata Partito della Nazione che quindi in quanto tale non può aprire soltanto alla sinistra perché quella rimarrebbe nel PD ma deve aprire a quei moderati di centro-sinistra e perché no di centro-destra. È questa la strategia del Premier, anche se noi attendiamo da parte di tutti i politici più che una tattica per la loro autoconservazione e non mi riferisco ora a Renzi ma parlo in generale, una strategia per il nostro futuro. E intanto buon weekend.